Ho trovato una concorrente, perché la padroncina di questa azienda agricola, eccola, è lei, cioè ragazzi mi batte. Buongiorno, come ti chiami? Giovanna. Giovanna, dell'azienda agricola a te stessa. Siamo di Cuneo, Peveranio. Abbiamo tutta la linea di confetture, come vedete, che sono fatte senza zuccheri, di verdure oppure di frutta. Il 70-80% della frutta e della verdura hanno a nostra produzione. Facciamo tutto ancora con un metodo tradizionale, ovvero con la pentola, facciamo cuocere 4 ore la frutta e la verdura e creiamo queste splendide marmellate solo con frutta e zucchero di canno non raffinato, non hanno conservanti, né peffina, né addensanti. La cosa veramente interessante è la frutta e la verdura disidratata, che prepariamo con un procedimento innovativo che elimina semplicemente l'acqua e concentra tutte le vitamine e sali minerali. Questa qua è la frutta e la verdura reidratata. Questi sono i risotti che sono già pronti, sono fatti con il riso di mia zia e la baraggia vercellente. Oppure i fiori di zucca, cosa ha mai vista? Disidratati, basta metterli nell'uovo oppure in pastella e in un minuto sono pronti.